Lo Sport in collaborazione con Luca Di Masi e il direttore sportivo Pasquale Sensibile hanno tracciato nel corso di una conferenza stampa le linee guida per la prossima stagione. Nonostante una mancata promozione ancora dura da digerire, proprietà e dirigenza grigie rilanciano le ambizioni di una squadra che vuole continuare a lottare per tornare nel calcio che conta. Il primo nuovo tassello sarà l'allenatore che con tutta probabilità sarà Cristian Stellini, ex assistente di Antonio Conte alla Juventus. Queste le parole di Pasquale Sensibile a riguardo. È innegabile che sia una pista concreta. Come nostra abitudine aspetteremo la firma e magari anche il deposito dell'eventuale contratto. Il minister deve comunque sistemare alcuni suoi dettagli con l'attuale società di appartenenza. Quindi non è giusto negare ma non è giusto neanche darlo per scontato. Ancora qualche ora, qualche giorno di pazienza e poi avremo anche un interlocutore tecnico. Abbiamo riscontrato in Cristian Stellini una sana ambizione, un'altissima competenza, un percorso che lo ha portato da calciatore a vincere nove campionati. Da calciatore ha frequentato tutte le categorie, da allenatore è stato molto vicino a due allenatori che credo di poter definire fra i migliori in Europa. Negli ultimi due anni ha frequentato il calcio giovanile e questo è un pochino il taglio di cui noi andavamo alla ricerca. Un taglio che tra le altre cose quando mette in campo la sua voglia di lavorare lo fa con grandissima autorevolezza, con grandissimo rigore e con grande meticolosità. Qui ci sarà bisogno di molto, molto, molto rigore da parte di tutti. Rigore nei comportamenti e nel rispetto delle regole. Perché poi vedete le regole che si usano negli spogliatoi o negli alberghi quando si va in trasferta sono le regole che ti inducono a stringere una diagonale o a fare un raddoppio di marcatura dentro il campo. Abbiamo messo sotto la lente di ingrandimento Cristian Stellini e auspicabilmente andremo a fine un fondo con lui. Sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it Il meteo in collaborazione con Franco Ponta, gli specialisti del clima ideale. Franco Ponta, da 30 anni realizza impianti di condizionamento e riscaldamento. Società e personale sono certificati, qualificati e specializzati nelle nuove tecnologie ad alto risparmio energetico in pompa di calore. Centro vendita e assistenza autorizzata Daikin. Franco Ponta, a 100 metri dal casello di Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 63 31 83, francoponta.it Prossima apertura, nuovo centro vendita e assistenza a Busalla, via Vittorio Veneto, di fronte al comune. Il parco acquatico Lavagello, a Castelletto d'Orba, in provincia di Alessandria, vi aspetta con numerose attrazioni per grandi e piccini. Vi potrete divertire con lo scivolo Kamikaze, lo scivolo Toboga, il Multi Race Foam, Rapid River e il Black Hole. Inoltre, se volete rilassarvi, laguna caraibica immensa, con giochi d'acqua, idromassaggi e solarium acquatico. Sul bagnasciuga della laguna, per il piacere dei bimbi, c'è l'Isola del Tesoro, un parco giochi con sette scivoli divertentissimi, situati nella zona con l'altezza dell'acqua più bassa, per migliorare la sicurezza e dare maggiore tranquillità alle mamme. Sala giochi elettronici con biliardo e tavolo da ping pong. Maxi Bar Ristoro con tavoli interni. Non vi resta che venire! Grazie a tutti!